Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 29 dicembre, un po' in ritardo, oggi mi sono fatto un po' gli affari miei, vi devo dire la verità, però spero che ci sia qualcuno a quest'ora un po' inusuale per la rassegna stampa che la veda e la condivida. Cosa è successo sui giornali? I giornali titolano tutti quanti praticamente oggi sul fatto che si andrà a votare il 4 di marzo. E' una notizia non notizia perché tutti quanti noi lo sapevamo, abbiamo già fatto i calcoli sul fatto che quel primo weekend di marzo sarebbe stato la fine dell'attuale sostanzialmente legislatura vera, perché come funzionano le cose? Che fino al 23 marzo, cioè fino al giorno in cui verranno dichiarati gli eletti, i mille eletti nel Parlamento italiano, fino a quel giorno i parlamentari esistono, attuali, e soprattutto il governo Gentiloni continuerà a fare gli affari suoi, cioè i nostri essendo un governo. Divertente infatti il titolo del fatto di oggi, che è piuttosto azzeccato, Camere sciolte, ma Gentiloni no. Probabilmente è un po' fissato con l'acido e sciogliersi nell'acido di memoria riniana, oltre che splatter, oggi travaglio, tanto che l'Anibali, che si candiderà col PD, lo leggo da qualche altra parte, insieme a Burioni, pensate un po' voi l'arrogantone Burioni del Vax, perché a tutte le ragioni del mondo meno ragionevole la sua arroganza, insomma l'Anibali che è stata sfregiata dall'acido, se l'è presa con il fondo di travaglio di ieri perché diceva che questa legislatura si è chiusa nell'acido, una cosa di questo tipo, ma sostanzialmente dice, gli risponde bene oggi travaglio, non pensavo che la parola acido fosse una di quelle parole da bandire dal dizionario del politicamente corretto. Ovviamente il dizionario del politicamente corretto fa comodo soltanto a travaglio, quando ne è vittima dice che lo ridicolizza, quando invece qualcuno usa parole che a lui non piacciono, allora a quel punto ritorna in auge il dizionario del politicamente corretto. Sarebbe bello che il posizionario del politicamente corretto, come nel caso di Acido, per cui mi sento di difendere la locuzione usata da travaglio, venisse adottato da tutti quanti. Comunque il titolo più divertente oggi è Camere Sciolte, ma gentiloni noi ci siamo anche sorbiti una specie di enorme pippone da parte di Tarquinio, che io conosco perché una volta venne a Matrix, perché aveva delle posizioni sull'immigrazione che mi interessava sviluppare, e mi sono reso conto della sua arroganza e della sua incapacità di dialogo con nessuno. Tra l'altro a un certo punto mi disse io conosco i suoi capi, come per dire adesso parlerò con i tuoi capi per il tuo comportamento in urbano, che peraltro non c'è stato. Quindi insomma questo è il genere di Tarquinio. Ma quando oggi leggo il suo fondo di Tarquinio, il direttore di Avvenire, è una roba incredibile cosa è diventato Avvenire, non so cosa fosse prima da quanto... Quindi il direttore di Avvenire fa un fondo che sostanzialmente nel fare un'analisi di quella che è stata la 17esima legislatura, Mino Tarquinio è il direttore dell'Avenire, per quanto riguarda la 17esima legislatura è soltanto uno sfogo egocentrico del direttore del giornale dei Vescovi italiani per dire avevo ragione io nel dire certe cose, cioè è soltanto una rivendicazione della sua suprema intelligenza e della sua suprema capacità di capire cosa stava arrivando. Tarquinio è il superbo e dirige Avvenire, o Simoro, grandissimo, qualcuno di voi lo scrive. L'altra cosa divertente sono i bilanci del governo Gentiloni che c'hanno tutti quanti. Adesso il bilancio del governo Gentiloni che è una persona carina, cortese, probabilmente educata, un conte di vecchie tradizioni nobiliari aristocratiche con cui noi dobbiamo grande rispetto. Beh, insomma, però adesso dire che il governo Gentiloni è diventato questo governo favoloso, oggi leggo un bilancio, mi sembra su un messaggero, una specie di grafica del bilancio del coso, leggo 60 anni dei trattati di Roma. E che cazzo c'è? E che cosa c'entra Gentiloni sui 60 anni dei trattati di Roma? Non li deve certe a Gentiloni, semmai al vecchio Martino, ministro degli esteri e padre di un altro ministro degli esteri. Il rinnovo del contratto degli statali. Grazie a quei soldi nostri, dopo dieci anni, hanno fatto un rinnovo del contratto degli statali che non premia minimamente il merito, ma è pari e uguale a tutti quanti. Il G7 di Taormina. Beh, veramente questo era quello che aveva cercato e ottenuto e avuto Matteo Renzi. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Intanto, e pensate che l'ha fatto Gentiloni nell'ultimo anno, insomma, tutti i meriti di Gentiloni, dimenticandosi, anzi, l'ultima riga c'è scritto, che forse, per esempio, l'EMA non l'abbiamo portata con Gentiloni, la nostra crescita è la più debole che c'è in Europa. Non è colpa di Gentiloni, però adesso far finta che Gentiloni sia una specie di salvatore della patria mi sembra tipico dei giornali italiani che quando un governo è in carica lo incenza come se fosse il miglior governo possibile, per poi invece trattarlo come il peggiore quando perde il potere. Ferrarella oggi su Corriere della Sera ci dice che si parla di asserita gogna mediatica, quindi quella di Ferrarella, la gogna mediatica in questo paese non esiste, è asserita, è come un po' le sedicenti Brigate Rosse, riguarda la nuova legge sulle intercettazioni che a Ferrarella non piace, ma non solo a lui. Favolosa l'idea incredibile di un paese comunista come il nostro, comunista come il nostro, perché il moderno comunismo è quello che vuole lo Stato, i burocrati e le corporazioni sempre a comandare, per cui è stata imposta una tassa di 25 euro sostanzialmente sui ciclisti della domenica. È obbligatorio iscriversi alla federazione ciclistica, adesso io voglio che vi darà una bike card che non servirà a una minchia. Allora, l'idea che noi abbiamo un obbligo per farci la passeggiatina, una garetta la domenica in bicicletta, io non vado in bicicletta, non me ne fotte nulla, anzi, quelle che hanno una bicicletta e che vanno sui marciapeni mi stanno anche sulle balle, ma l'idea che in un paese ci debba essere l'obbligo di una bike card, chiamatela poi come siete nati, ma bike card, meglio ius soli, chiamatela ius soli questa card, lo ius soli biciclette, bene, bisogna avere una ius soli biciclette, pagarla 25 euro per poter fare la garetta della domenica, dopo devi aver fatto tutti i certificati medici, devi aver fatto le prescrizioni, devi aver messo, che ne so, il casco obbligato, tutte minchiate. Viviamo in un paese che non ci lascia liberi di fare nulla e quando facciamo qualcosa da soli ci tassa. Caselli oggi sul fatto ci spiega che la sentenza di contrada per la quale non viene riconosciuta la sua colpevolezza, almeno come i magistrati italiani lo hanno deciso, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza che si dovrà applicare anche a Marcello Dell'Utri, è una sentenza assurda, quella dei diritti dell'uomo europea, e fa un pipotto di una pagina intera sul fatto, dicono che hanno sbagliato i magistrati europei a rettificare la sentenza italiana. Questo che cosa vuol dire? Questo è il dato significativo, che Caselli non dice che la sentenza europea non si debba applicare a Marcello Dell'Utri, ma dice che la sentenza è sbagliata anche nell'applicazione a contrada, il che vuol dire che probabilmente lui condivide il fatto che si applichi a Dell'Utri. Capisco che è una costruzione un po' arzigogolata, ma lui contesta la sentenza europea, non la sua eventuale applicazione a Dell'Utri, anzi dice che il fatto che quella sentenza europea è fatta così male e così sbagliata, porterà anche Dell'Utri a uscire di carcere, quindi dando una conseguenza logica. E perché non si deve applicare questa sentenza europea? Lo spiega in un pezzo piuttosto complicato sul fatto. Chi vuole si diverta e se lo leggo. Caselli è quello che si è inventato sostanzialmente l'attivizzazione giuridica del concorso esterno, ne ha fatto la sua carriera, e come tale è evidente, lui e i suoi amici magistrati di quella genia, che non sono grasso per esempio, che contesta questa impostazione, il grasso che prese il posto di Caselli grazie a una nomina di Berlusconi nella direzione antimafia, insomma in questo senso la teoria di grasso è vincente e quella di Caselli perdente. Riguardo a grasso, fantastico, ha giù una pagina del Corriere della Sera che ricorda per la seconda volta come debba 80 mila Euro al Partito Democratico, tutti i deputati del Partito Democratico danno 1.500 Euro del loro stipendio al Partito Democratico per un fondo che dovrà essere utilizzato per i dipendenti al Partito Democratico oggi in cassa integrazione, grasso se ne fotte, il Presidente del Senato se ne fotte e questo non è cosa carina. Beh, straordinaria, oggi c'è il proseguio della vicenda dei rifiuti romani che è nel caos più totale Roma, la Pinuccia Montanari che è l'assessore all'ambiente ha detto vi assicuro un Natale tranquillo, 13 dicembre, un casino, come era facilmente prevedibile perché c'è troppa monnezza, ci sono, ha piovuto, peraltro succede a Natale, può succedere, può avvenire qualche volta e quindi i mezzi, è andata deserta, come si chiama, un appalto per la raccolta dei rifiuti, chissà come l'hanno costruito questa realtà, ma la sostanza è che Pizzarotti è fatto fuori dal Movimento 5 Stelle perché non fa altro che concludere quello che non poteva che concludere, cioè il termonizzatore di Parma, per fortuna c'è, non per merito di Pizzarotti che è stato escluso perché non riusciva ad incatenarsi, ma per merito delle giunte precedenti, si fa il termonizzatore a Parma e dove vanno i rifiuti a Roma devono andare a Parma, ma sapete che c'è di nuovo che il Presidente della Regione che gestisce il piano rifiuti dell'Emilia Romagna Buonaccini del PD dice ragazzi, chiedetecelo prima, non ve li prendiamo più, se fosse stata un po' meno arrogante la signorina che lavorava nello studio dell'Avvocato Previti, la signora Raggi, forse oggi a Roma ci sarebbe meno monnezza. Quindi sta signorina totalmente impreparata e soprattutto arrogante, arrogante. Roma Cloaca Aperta è il titolo del tempo del quale vi segnalo un pezzo di Marcello Veneziani che dice una cosa sacrosanta, dice ho votato al ballottaggio, pensate un po' voi, Marcello Veneziani ha votato al ballottaggio, sapete per chi? Per la Raggi. E perché ha votato per la Raggi? Perché i vecchi erano una certezza nella loro incapacità di gestire Roma da Marino ai precedenti, mentre i grillini erano un'incognita, ma dopo questa incognita ha capito che lì è il disastro più totale e tanti come lui votarono la Raggi, tant'è che prese il 70% dei voti. Ultima cosa che mi... vabbè, c'è un'intervista al Cavaliere che rilancia la Flactax, c'è invece un'intervista a Gori, ex sui dipendenti a Mediaset per anni, fece grande Canale 5 e Gori invece sta dall'altra parte e Berlusconi vuole la Flactax, Gori invece vuole Grasso, cioè la sinistra della sinistra perché se no non vince in Lombardia. Questo è sul piano politico, invece la cosa più incredibile è quello che è venuto a Cortina. Per l'ennesima volta non si è riusciti ad arrivare a Cortina per la neve. Altra cosa che succede in genere è che possa nevicare a Natale. La grande nevicata di Natale esiste, non è una di quelle cose che nel mondo sono impossibili. Però il punto vero è che quando andate a leggere l'ho letto sul Corriere Veneto che è l'apertura ovviamente anche il Corriere delle Alpi aprono con Cortina la trappola di neve a Cortina. Questa trappola di neve non è la neve che ha creato un problema ma è dei cretini, dei deficienti che si mettono per strada senza le gomme termiche o le catene per la neve. E diciamo che negli automobilisti una componente di cretini della domenica ci può pure stare. Ma il punto fondamentale è che tutto nasce da un camionista austriaco senza catene da un tir austriaco senza catene con autista ungherese. In un paese normale ovviamente non si può fucilare un autista ungherese perché non abbiamo il controllo della giurisdizione sugli autisti ungheresi presi dai tir austriaci. Ma in un paese normale non dico appunto fucilare. Ma se un cazzo di autista e un tir straniero si presenta in Italia senza le catene e soprattutto vuole andare vicino a Cortina e senza le gomme termiche e questo rende, distrugge la vita a migliaia di persone perché un weekend è anche la vita di migliaia di persone quelle persone, quel tir lo si battisce per i prossimi 50 anni dall'Italia. Gli si fa una multa da 50 mila euro! Certo, voi qualcuno come il sindaco di Cortina dice ma quello là perché non l'avete controllato? Perché non avete visto che non stava salendo? Perché non l'avete fatto? Non si sa che i tir non possono girare nei giorni di vacanza. Tutte cose vere ma l'idea che ci sia un tir straniero che ci sia... Questo vale l'invasione degli stranieri dal sud del mondo. Possono anche essere austriaci con gli autisti ingresi ma questa è una cosa di una gravità perché vuol dire pensare che in Italia si possa fare esattamente quello che vuoi presentarsi in una strada di montagna con un tir austriaco con un autista ungherese che lavorerà 30 ore invece che le 6 di obbligo 7 di obbligo degli autisti italiani con i tir italiani e ci fanno la concorrenza a noi e mettere a disagio un sistema turistico importante come quello di Cortina e non solo. Saluti, condividete se vi piace la zuppa appuntamento a domani. Ciao!